Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti fratelli e sorelle, ben ritrovati qui stamattina con un mio nuovo video. Innanzitutto vi invito, vi invito, vi invito sempre a mettere mi piace al video perché comunque io ci metto del tempo, risorse per portarvi questi video e un'iscrizione al canale, fate un piacere a me in modo da sostenere il canale. Allora, di cosa parliamo stamattina? Innanzitutto, premessa, stamattina dovrebbe esserci questa famosa sentenza sulle plusvalenze. Alcuni parlano di un meno 12, alcuni parlano di un meno 9. Vedremo, vedremo, la mia sensazione è che ci buttino fuori dalle coppe. Cioè, comunque, come in privato di solito mi sento con molta gente che ne sa di queste cose, alcuni miei amici mi hanno detto che a seconda di come si troverà la Juventus ci daranno i punti di penalità. Quindi vedremo, vedremo, vedremo oggi, comunque nel corso della giornata magari, vi terrò informati. Allora, veniamo a noi. Ieri sera, ieri sera tutti eravamo in trepida attesa in hype per questa famosa clamorosa notizia che Caressa ha dato al Sky Calcio. Di solito io non guardo mai Sky Calcio Club, però ero curioso perché sapevo benissimo dove andavano a Paracet. di solito, di solito, una clamorosa notizia dovrebbe essere qualcosa di grosso, però alla fine hanno fatto tanto hype per nulla perché è vero che Sky, parlato con gente che comunque segue Sky, di solito loro le notizie le danno verso le 23, però hanno detto su me un sacco di cazzate, un sacco di cazzate perché purtroppo ci sono giornalisti che fanno informazione e quello ne va dato tanto di cappello perché il giornalista deve fare il proprio lavoro, raccontare i fatti, raccontare cronaca, dare informazione. Quello che ha fatto Caressa ieri è stato veramente un lecchinaggio a favore di Allegri in una maniera assoluta. Servilismo ne abbiamo e come se ne abbiamo di servilismo? E ci sono ancora molti giornalisti, per fortuna alcuni si stanno svegliando, per fortuna, che continuano a leccare ad Allegri perché ieri è una notizia che non è una notizia perché il giorno prima Di Marzio dice no, è fatto, è giunto, eccetera, e dopo Caressa ha detto eh c'è un rallentamento, no? Cioè non sanno neanche loro quello che dicono, no? Perché Di Marzio è uno che lavora a Sky, poi bisogna anche dire che da quando è andato via Marotta Sky non sa nulla sulla Juve perché Marotta era l'unico che gli dava le notizie, Sky l'unica cosa che dice solo quando è ufficiale, no? Prima che arrivi l'ufficialità, però, cioè, questo non è una notizia, la notizia ci deve essere un qualcosa di grosso. Cioè ieri a fin fine non hanno detto un cazzo, cioè hanno detto che Di Maria non rinnova per questioni economici cazzata, cazzata, perché se Di Maria non dovesse rinnovare, cosa che io mi auguro, cosa che io mi auguro, perché come ho detto nello scorso video, io Di Maria non l'avrei preso, non l'avrei preso, però sicuramente non rinnova perché la Juve si aspettava qualcosa di più, no, per me è una questione con l'allenatore. Le parole di ieri, le parole di ieri sono molto importanti, per quello io a caressa non ci credo quello che ha detto ieri, perché ha detto un sacco di cazzate, cioè che giuntoli la pista di sera fedata, che se non dovesse arrivare giuntoli si pensa a una soluzione interna con la mano, ma io veramente non ci voglio credere che un allenatore decide di scegliere di esse, cioè è la società che decide di esse, non l'allenatore. Quindi anche questa storia ha detto un'ennesima cazzata, caressa, e poi si parla di manna, che manna ed è ferito in teoria, quindi anche qua il castello crolla. Cioè capite che sono una serie di cose, per quello dico, è giusto, è giusto che magari certi mi riportano certe notizie, no, eh ma quello ha detto quello, però difidate, difidate, perché ci sono giornali che comunque magari in questi anni ne hanno azzeccato, ma giornali che, cioè difidate comunque, cioè prendete le cose con le pinze, infatti io di Sky non è che mi fidi tantissimo. Poi ha parlato anche di Vlaovic, no, che ha un'offerta, no, superiore di 80 milioni, la Juve ci potrebbe pensare, però capite, capite che ieri sera veramente caressa ha fatto un teatrino, e secondo me, e secondo me qua c'entra anche Allegri, perché caressa e Allegri sono così, sono il papa e ciccia, se ben vi ricordate, non riesco nemmeno a parlare stamattina, se ben vi ricordate, quando era, cos'era, due anni fa, prima che Allegri tornasse la Juve, Allegri era al Sky Cagio Club, e faceva tutto lo splendido, no, faceva, faceva il moralista, no, dicendo che Pirono aveva ancora trovato la quadra, tu in due anni non hai trovato ancora, non hai neanche messo un modulo, un modulo decente in campo, quindi, cioè, si capisce che caressa veramente ieri, non andava a parare su, praticamente su nulla, cioè una notizia che non è una notizia alla fin fine, cioè perché giuntoli sì, poi c'era quell'altro Marchetti ha detto, no, noi non stiamo dicendo che giuntoli non arriverà la Juventus, però ci sono delle riflessioni, sì, ma riflessioni che, cioè, io non penso che la società oggi, 22 maggio si svegli e faccia delle riflessioni, ci sono già da tempo, quindi, insomma, queste notizie trovano il tempo che trovano alla fine, cioè alla fine non ha detto niente alla fine, quindi, purtroppo, purtroppo c'è veramente un servilismo, un servilismo allucinante a favore di Allegri, per fortuna, per fortuna, dopo Pedulla, ieri ha fatto un tweet, che veramente, 100 Pedulla, 100 Pedulla, a Pedulla, lì si può dire che magari anche lui è qualche notizia di calcio in mercata, ne ha sparanta veramente di grossa, però, cioè, è l'unico, l'unico, a parte la della Valle, anche lei, è l'unico dei giornalisti che, che non si fa mettere i piedi in testa, è l'unico che, non è, non è a livello di servilismo di Allegri, perché Allegri, purtroppo, è coccolato, è tutelato dalla stampa, cioè, ieri, proprio, Caressa, proprio lì, li leccava, veramente, ad Allegri, quindi, volevo aggiornarvi su questa cosa, no, perché, visto che tanti, no, e Caressa ha detto, che è giunto, lì non ha, calma, 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 ragazzi, stiamo, calmi, stiamo, calmi, è giunto, lì non è saltato, che poi, è lo stesso anche Di Marzio, ha detto che c'è un accordo, e dopo, dice, ore di riflessione, dopo dice Di Marzio, Allegri, non è in discussione, cosa, che per me, non è vera, non è vera, purtroppo, 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 soprattutto Sky, sulla Juve, non sa un cazzo, cioè, come ho detto prima, da quando è andato via Marotta, Sky non ne sta imbroccando uno, quindi, non credete a Sky, ragazzi, perché, purtroppo, soprattutto Caressa, ha un livello di servilismo, verso questo allenatore, e niente, cioè, mia sensazione, la mia paura, che a Reghi rimane, c'è, c'è, però, però, rispetto alle, scorse settimane, non è, non è salda la panchina, non è salda, le parole di ieri sono molto importanti, perché ho detto sì, per quanto mi riguarda, io resterò al 100%, però non sta a mai decidere, quindi, poi anche quello che ha detto, contro Scesni, cioè, lui, praticamente, sta parlando male, anche di, di suoi stessi calciatori, cioè, ha detto, è quadrato, ha fatto una battuta, cosa che io non credo, cosa che io non credo, anche, anche i calciatori hanno, hanno capito che, questo allenatore, ormai è alla frutta, questo è alla frutta, ragazzi, cioè, uno, un allenatore che mi dice, eh, Scesni, eh, ha sbagliato i termini, non sa parlare di te, ma guarda che Scesni, è da quanti anni che è qua in Italia, da dieci anni, eh, se io non erro che in Italia, quindi questo, è anche una mancanza di rispetto, questo è un tuo giocatore, come vi avevo detto, no, nel video di, eh, dell'altro ieri, no, che lui ha scaricato la colpa sui giovani, ma anche gli stessi veterani, non ti sopportano, non ti sopportano, quindi io, io mi chiedo, come fanno certi giornali, certi giornali, a dire che Allegri resta il 100%, ma, ma come cazzo fate a dite? Cioè, come, come fate a dirlo? Cioè, io non dico che Allegri, è sicuro, però dopo le parole di ieri, per me, per me, per me, sa già che fuori, perché un attore, un attore che, dovrebbe essere sicuro di maniera, non parla così, secondo me, quindi io, non riesco ancora a capire, questo servilismo, da parte di certi giornali, ecco, e soprattutto come, cioè, secondo loro, Allegri rimane al 100%, le parole di ieri, mi hanno fatto capire, tutto l'esatto contrario, quindi, poi magari, rimarrà, io spero di no, perché, io l'ho detto, quello, quello che faccio, se dovesse rimanere Allegri, un altro anno sulla panchina, però, ieri, Carrius ha veramente, dato i numeri, i numeri, ragazzi, c'è una notizia, che non è una notizia, cioè, non sanno, non sanno neanche loro, non sanno neanche loro, quindi, stiamo, stiamo calmi, ripeto, per me, le parole di Allegri, per me, lui sta parlando, da ex allenatore della Juventus, e quindi, niente, adesso, oggi, c'è la sentenza, vedremo, e stasera c'è la partita, per quanto mi riguarda, queste tre, ultime tre parti di campionato, per me, non servono un cazzo, cioè, sì, tutto dipende, quanti punti ti daranno, però, che vada in Champions, o che non vada in Champions, a me, sinceramente, me ne sbatto i coglioni, cioè, tu, tu devi ricostruire adesso, tu devi, mettere una base, mettere una base, cioè, sì, a me piace, a me farebbe piacere andare in Champions, però, la maggior parte della diffusoria dice, eh, non possiamo puntare a Champions, e tu che cazzo andiamo a fare, andiamo a fare, non giocare a briscola, quindi, a questo punto, manco, manco andarci, sinceramente, non ci vado, incomincio, a togliere i rami secchi, a costruire, e soprattutto, magari, mettere qualche persona competente in società, a prendere un allenatore che abbia idee di calcio, un po', un po' come abbiamo fatto quando è arrivato a Conte, no? la Juve era fuori dalle coppe, e lì, lì, la società mi era piaciuta, i primi tre anni, dopo, ha incominciato a, a non capirci più un cazzo, noi dobbiamo tornare, a quel tipo di società lì, cioè, a fare scouting, a fare, acquisti mirati, e non per il nome, o per, per lo stipendio che prendono, noi dobbiamo fare questo, quindi, che vada in Champions, vada in Champions, sinceramente, me ne frega a un certo punto, cioè, se tre partite, sì, magari le seguirò, ma, io spero che a fine anno, questo, veda lì, venga liquidato, trovate una buona uscita, decisione, quello che volete, basta che io, mi sento sollevato, che l'anno prossimo, a Lega non è più solo la nostra panchina, perché se dovesse, rimanere un altro anno, ragazzi, io, mi prendo un anno sabatico, cioè, ve lo dico, ve lo dico chiaramente, io non ce la faccio più, a vedere, a vedere questo schifo, fatemi sapere la vostra, come, cosa ne pensate, no, di quello che ha detto ieri, cari, adesso per me, sono tutte cazzate, sono tutte cazzate, quello che ha detto, e aspettiamo oggi, questa sentenza, e ci vediamo, questa sera, per il post partita, di Empoli-Juventus, e sempre, e sempre, fino alla fine, forse Juventus, e fino all'esonero, di Empoli-Juventus,